Mundial Vimar è presente nel settore delle macchine per la lavorazione della legna dal 1976. Da 40 anni si occupa di progettare e realizzare macchinari per il taglio e la lavorazione della legna. Presente in oltre 50 fiere, tra Italia ed Europa, la Mundial Vimar sviluppa macchine spaccalegna moderne e compatte, semplici ed efficienti. Mundial Vimar costruisce macchine spaccalegna idrauliche a funzionamento verticale oppure orizzontale. Prova il piacere di lavorare ottenendo il risultato migliore e più redditizio ma senza fatica. La serie di spaccalegna verticali si compone dei seguenti modelli. Hobby, adatto a tronchi con lunghezza massima di 600 mm per spaccare legna da ardere per stufe, barbecue, caminetti e forni. Family, linea professionale versatile con corsa del cuneo da 450 mm o 1000 mm e potenza di taglio da 10 tonnellate o 15 tonnellate. Professional, adatta a tronchi di lunghezza massima di 1000 mm e potenza di taglio da 20 tonnellate. E infine Top Professional, la linea estremamente versatile adatta a tronchi con lunghezza massima di 1300 mm e potenza di taglio da 25 tonnellate. Tutte le macchine sono fornite di croce a 4 e possono essere integrate da una corsa del pistone da 1 metro per la legna da caminetto. Gli spaccalegni orizzontali si distinguono per lunghezza della corsa del cuneo in 1000, 1300 e 1500 mm e su richiesta possono arrivare anche a 2 metri. La potenza di ogni modello può essere aumentata se abbinata a caricatori per sollevamento della legna così da avere 25, 28, 30, 35 e 40 tonnellate. Ogni modello può essere azionato da un motore elettrico, monofase o trifase, da un attacco di tipo cardanico, presa di forza da trattore o combinato.